Senti, bellissima creatura dell'universo. Usciresti stasera con me? No, mi dispiace. Questa sera ho un appuntamento con Davide. Davide? E cosa avrebbe mai più di me questo Davide? Un appuntamento con me? Sì? E sì. E sì, è giusto. Quindi io... Ciao ciao! Fabi, veniva! Salute ma a Davide! Ciao!